salve a tutti ho acquistato un aspiratore gemi e oggi è la prima volta che accendo il cammino di casa dopo aver installato qualche giorno fa questo aspiratore devo dire che è un prodotto ottimo nel senso che come fattura è un buon prodotto semplicissima l'installazione con un paio di chiavi tutto chiaro anche a livello di istruzioni per l'installazione sia del comignolo che del condensatore ovvero della scatoletta con l'accensione e le varie velocità con le quali regolare l'aspirazione del camino quindi io mi sono trovato abbastanza bene tutto questo punto di vista adesso vi faccio anche vedere com'è il camino acceso allora questo è il camino sta tirando molto bene la fiamma diciamo ha regolato a 3 come velocità quindi da 0 a 6 la metà il condensatore l'ho installato all'interno di questo mobile che ho di fianco al camino perché siccome è abbastanza grande non mi andava di lasciarlo a vista quindi l'ho posizionato lì dentro un attimo che l'inquadro eccolo qua sta funzionando questa scatola così si vede meglio sta funzionando adesso andiamo sopra vi faccio vedere il comignolo in azione e questo è il aspiratore che sta funzionando ma adesso così al buio non è che si vede più di tanto però è in funzione va tutto bene